Determinato, convinto e supportato dai suoi cittadini. È Daniele Grossi, sindaco di Sasso Corvaro, che con il suo collega Urbinate Gambini si è incatenato martedì scorso all'ospedale Lanciarini per far sì che la Regione Marche ritiri la delibera 735 e le successive determine che hanno ridimensionato i piccoli ospedali facendoli diventare ospedali di comunità, riorganizzando così l'intero servizio sul territorio del Monte Feltro. Una battaglia condivisa da tutta l'entroterra che vede sul piede di guerra ben 55 sindaci e 59 comuni. Si sta minacciando un diritto alla salute e alla cura pubblica dei cittadini, di oltre 30.000 cittadini che vivono nell'entroterra, che hanno deciso di vivere nell'entroterra. Perché abbiamo, non dimentichiamoci, abbiamo nonni e padri che hanno investito nel nostro territorio, abbiamo delle aziende a livello quasi industriale potenti nel nostro territorio e quindi ci sono famiglie che credono in questo territorio, che hanno investito in questo territorio ed è un nostro diritto abitare in questo territorio garantendo ai nostri cittadini quello che gli aspetta e innanzitutto è il diritto alla cura e alla sanità pubblica. Io non ci sto alle nuove delibere regionali, alle nuove determine perché Sasso Corvaro, il presidio ospedale di Sasso Corvaro, aveva già pagato. Ricordiamoci che nel 2003 è stata chiusa una chirurgia per lasciare spazio a una società pubblico-privata che si chiamava Montefeltro Salute. Quella società che la nuova giunta regionale ha deciso di chiudere nonostante parere favorevole della sperimentazione con la 991 è stata chiusa la Montefeltro Salute andando ad interpello per individuare una nuova azienda privata accreditata con la regione e nella 991 c'era scritto ben chiaro che dal primo di gennaio sarebbero stati garantiti sia il nome del privato che il servizio. Ad oggi qui a Sasso Corvaro, vi invito a girare, non troverete né privato né servizi. Quindi per me è un'interruzione di pubblico servizio. Porteremo avanti questa protesta per riavere quello che ci vogliono togliere. Intanto per ripristinare le condizioni al 20 di dicembre 2015 quando ancora quel poco servizio che avevamo funzionava. Il Lanciarini, caduto sotto la mannaia della delibera della giunta Ceriscioli ha perso così i suoi 25 posti di lungo degenza costringendo in futuro i pazienti ad essere indirizzati verso altre strutture come Urbino e Pergola molto disagevoli viste le distanze e le strade. Oltre al danno anche la beffa, dice il sindaco Grossi dato che la delibera è datata il 22 di dicembre ed è arrivata la vigilia di Natale. Purtroppo non ho potuto passare neanche delle belle vacanze perché queste cose sono arrivate alla vigilia, il 24. Ho studiato, ho iniziato a leggere e c'era scritto ben chiaro che se si chiama ospedale di comunità nell'ospedale di comunità previsto dalla 9-14 non ci sono posti di lungo degenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.